addevinarie gli eri destinato poverie gli a stare sotta a essere paragonata a cosa rotta se lo padrone suo è fortunato e a essere sempre assai maltrattato già era piccolo va a paccheri e cauci e a staciuso e anche con maccauci e tutto lo piso un cuoio da portare quando si assenta per essere posato brutto o no non sa da fare tremente e manco si recita sa da senta e come è nato ha un lavoro legge ma questo zuzzo che è certo lo peggio questo rimoro con mano segreto si addevinarie gli che ha portato a marreto si sape ballare e muoversi da solo se salva se non ripigliano per culo grazie a tutti